Grazie Presidente. Parliamo quindi della delibera di revoca parziale dell'assegnazione al gruppo Fidene. È una delibera che ha passata, come ha anticipato l'assessore, due volte in commissione. L'abbiamo affrontata nella seduta del 19 luglio e poi abbiamo espresso parere nella seduta del 6 settembre. La commissione si è espressa all'unanimità, esprimendo parere favorevole. Di cosa parliamo? Di un'area che il Consiglio Comunale ha assegnato approvando un progetto nel 1998, progetto che però non è mai partito, quindi siamo quasi ormai a 20 anni, 19 anni dall'anno dell'assegnazione, su richiesta anche del municipio. Abbiamo affrontato il problema della revoca parziale, questo ci tengo a precisarlo perché vogliamo mantenere la destinazione ad uso sportivo dell'area. Quindi nella seduta nella quale è stato convocato in audizione il segretariato abbiamo affrontato questo problema. Ci è stato spiegato che la destinazione dell'area che inizialmente era ad verde pubblico è stata con il nuovo piano regolatore cambiata in servizi pubblici di livello locale. Motivo per cui la possibilità di realizzare un impianto che comunque non andrebbe oltre il 25% della superficie non è messa in discussione. Motivo per cui su questo progetto Stato di Libera spiegheremo voto favorevole. Grazie. Grazie a lei consigliere.